Alla fine di un lungo pomeriggio di tensione la legge sulla fusione dei comuni e legge. Parliamo dei comuni di Cosenza, Rende e Castro Libero, il Consiglio regionale lo ha approvato nonostante l'assenza delle opposizioni che per protesta hanno abbandonato i lavori contestando il metodo, ossia l'inserimento all'ordine del giorno della seduta senza un approfondimento delle commissioni sull'articolo 4 della Omnibus. La proposta che prevede di rendere consultivo e non avvincolante il referendum comunale sulle fusioni. Unica posizione contraria a quella di Antonello Tallerico del gruppo misto. E ancora prima le perplessità hanno state espresse da Fratelli d'Italia, strappo poi ricucito. Al termine della serata l'articolo 4 dunque diventa legge ma rivela qualche crepa nella maggioranza di centrodestra tanto che il capogruppo di Fratelli d'Italia interviene con un comunicato in cui si afferma avevamo immaginato di chiedere un rinvio della trattazione della norma ma a seguito di una consultazione di maggioranza pur esprimendo alcune perplessità su come si è giunti alla elaborazione di questo testo normativo abbiamo dato in aula il nostro assenso.